La curva del contagio, seppure lentamente, continua a scendere. I numeri tuttavia restano impressionanti rispetto ai mesi scorsi. Dall'ultimo bollettino sono emersi 392 nuovi casi, dei quali 66 rilevati dai tamponi molecolari e 326 da quelli antigenici. In totale i test eseguiti sono stati 2781. Il tasso di positività è ora al 14%. Sono invece quasi raddoppiati i ricoveri in ospedale, soprattutto quelli della categoria degli anziano fragili, gli over 65, cioè con sintomi meno gravi rispetto a quelli destinati al reparto di malattie infettive o di terapia intensiva. Il reparto al quinto piano del Cardarelli, destinato proprio agli anziano fragili, è ora occupato da 13 pazienti. Il tasso di occupazione dell'area critica invece resta tra i più bassi in Italia. Il totale dei ricoverati in ospedale a Campobasso è di 44 persone. Ci sono stati altri due decessi, due uomini di 87 e 83 anni, di Larino e Termoli. Il totale delle vittime da Covid in Molise è ora salito a 526. Gli attualmente positivi sono 9.416. Intanto, secondo il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Molise, Giancarlo Ripabelli, sarebbe opportuno semplificare il sistema a colori delle zone di rischio, ma non eliminarlo. L'attuale sistema di tracciamento dei contagi, ha detto Ripabelli, dovrebbe essere resettato, ma essendo cauti su eventuali modifica i meccanismi delle quarantene e degli isolamenti nelle scuole. Il punto di riferimento per qualsiasi decisione ha comunque chiarito Ripabelli, deve essere sempre più il tasso di copertura vaccinale.